tutto pronto si aprono le gabbie partiti i cavalli della sesta e conclusiva corsa più lenti a partire sono malvina e volturno più veloce gilly bear che si porta subito al comando nei confronti di indian key a terza posizione con la giuba gialla troviamo little prince a precedere gli altri partecipanti capeggiati anche da dilido poi miau miau ancora all'esterno prince denars con la giuba azzurra troviamo miss ortigia poi anche naiel dietro a questi la figura di lucky lady all'interno di tutti c'è anche winning attitude e poi in fondo al gruppo troviamo tutti gli altri partecipanti si procede così con i cavalli che vanno a percorrere la prima parte della curva sempre gilly bear in vantaggio nei confronti di indian key poi in terza posizione little prince macoter che agisce in quarta posizione dietro a questi con la giuba chiara bianca azzurra e troviamo anche miss ortigia a precedere naieli dietro ci sono altri partecipanti quando siamo in dirittura d'arrivo con gilly bear sempre davanti indian key che prova a far lo spunto al suo esterno poi little prince che va di dentro macoter che è in quarta posizione ci prova miss ortigia ci prova anche naieli all'esterno di tutti c'è prince denars all'interno ci va winning attitude c'è una bella bagarre con i cavalli che sono a 300 al traguardo indian key little prince gilly bear all'interno c'è anche miau miau e winning attitude con cinque cavalli che sono in linea praticamente all'esterno indian key e che è leggero vantaggio miau miau che dall'interno prova a produrre lo sforzo anzi è di lido con indian key che batte di lido e al terzo posto little prince i due di agostino affè al primo e al secondo posto indian key che vince con claudio colombi che si regala una bella doppietta training è quello di agostino affè colori di antonio di carlo secondo posto per il giocato di lido eh sì è di lido quello di dentro e poi al terzo posto il numero 5 little prince numericamente 4 1 5 l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della maiden vince il figlio di profitable che aveva una quota di 5 secondo posto per il giocato di lido 4 1 e poi come detto al terzo 5 little prince la capanella è veramente tutto vi ringraziamo per averci seguito vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con le corse al trotto è per domani sabato 18 dicembre le salgaloppo tornano invece venerdì 24 dicembre giorno di vigilia intanto riapprezziamo il finale con i cavalli in lotta della maiden è stata un po di confusione ma alla fine è spuntato indian key che con il paraocchi è cambiato da così a così secondo posto per dilito al terzo little prince da capanella è veramente tutto grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima giornata buona serata grazie a tutti